Avete mai immaginato che dietro una vita piena di luci e successo ci fosse un destino tragico? Oggi vi parleremo di una notizia tremenda che ha scosso il mondo della televisione italiana e non solo. Un dramma ha colpito una famosa influencer insieme a suo padre, sconvolgendo il mondo online. Un lutto che si è abbattuto senza preavviso, lasciando il mondo della tv italiana e la community di YouTube in lacrime. Ora entriamo nella notizia. La famosa influencer, insieme a suo padre, ha vissuto un tragico incidente aereo lo scorso giovedì. La donna si trovava alla guida del suo aereo personale, un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e passione. Quando, per cause ancora da chiarire, l'aereo ha improvvisamente iniziato a perdere quota. Quell'esperienza, che avrebbe dovuto essere di libertà nei cieli, si è trasformata in un incubo. Nel tentativo di controllare la situazione, la situazione è sfuggita al controllo dell'influencer, portando l'aereo a schiantarsi in una zona boschiva. È stato un istante che ha cambiato per sempre la vita di chiunque fosse coinvolto, un momento in cui la passione per il volo si è trasformata in tragedia. Le indagini sono in corso per comprendere i dettagli di questo evento. La comunità online è sconvolta da questa notizia, lasciando tutti in uno stato di sgomento e tristezza. Ma cosa potrebbe aver causato questo tragico evento? Vi invito a condividere le vostre opinioni nei commenti sotto il video. È un momento difficile per coloro che seguivano la vita e i contenuti di questa influencer. Un momento che richiama alla fragilità della vita e alla drammaticità di certi eventi imprevedibili. La tragedia ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità online. L'influencer, con oltre 16.000 iscritti al suo canale YouTube, ha condiviso con il pubblico un mondo variegato di contenuti. Dai video che offrivano lezioni di volo, illuminando le passioni di chi sogna di librarsi tra le nuvole, fino ai racconti di viaggio che trasmettevano l'emozione e la bellezza di esplorare il mondo a bordo del suo aereo personale. Voglio ringraziarvi per essere rimasti con noi fino a questo punto. Vi invito calorosamente a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Questi video non erano solo contenuti digitali, ma finestre aperte su un mondo di avventure, insegnamenti e condivisione di passioni. Ogni iscritto, ogni spettatore, poteva cogliere un frammento di questa passione e immedesimarsi nelle esperienze raccontate dall'influencer, rendendo così il suo canale un luogo di ispirazione e apprendimento per migliaia di persone. Questo evento ha sconvolto il noto mondo di YouTube e il panorama televisivo italiano. L'inaspettata notizia si è diffusa rapidamente, sia attraverso i canali di Rai e Mediaset, sia attraverso la piattaforma di YouTube, richiamando l'attenzione della comunità italiana e internazionale.